Salve ragazzi, sono Masterwola, scarico, carico, carico, eccoci qua. Allora, l'argomento di oggi è questo, perché non sarai mai Mister Olimpia? Può sembrare un titolo strano nel senso, ma chi mai può aspirare a diventare Mister Olimpia? Qualcuno ci pensa, ma se voi mi seguirete, capirete i motivi per cui voi non sarete mai Mister Olimpia, o chiunque, imparerete tante cose tecniche proprio sul discorso della differenza fra i natura, i bombaroli, eccetera, eccetera, sono considerazioni interessantissime, che vi serviranno proprio all'atto pratico, quindi non sto qui a parlare di aria fritta. Prima di partire con l'argomento vi dico che guardando la situazione qui della nostra community, le cose stanno decisamente peggiorando, proprio in senso anche abbastanza pesante. Queste sono le conseguenze di quando, per forza di cose, anziché fare veramente cose tecniche o veramente rivolgersi alle persone per farle migliorare, si pensa solo a fare teatrino, teatranti, e alla fine le conseguenze poi sfuggono di mano e può succedere di tutto, come è successo anche a qualcuno che è adesso ultimamente preso da manie di grandezza, per quello che si è saputo. Ci possono essere conseguenze che, ripeto, se si va a nuotare, sapete che a me piace fare gli esempi psichici, mettiamola così, voi sapete che c'è un fiume che è infestato dai coccodrilli, non tantissimi, però ci sono, ogni tanto si vedono passare queste code enormi, questi rettili, raramente, però ci sono. Allora uno che cosa fa? Decide di cominciare a guardare questi fiumi, per far prima, anziché fare un giro enorme, ti dice, passo il fiume, arrivo subito, però ci sono i coccodrilli. Quindi lui vuole avere un vantaggio nel fare questa cosa, vuole avere un vantaggio, cercate di capire la metafora. E lo fa, il problema è che ti potrà andare bene una, due, cinque, forse anche dieci volte, ma alla fine se incappi nel momento quel coccodrillo è là sotto e mentre tu attraversi ti agguanta, le conseguenze sono quelle che sono, ma non è che uno non sapeva che c'erano i coccodrilli, ci sono, è che si è fatto prendere dalla mania di avere il vantaggio di accorciare la strada ed è succede quello che succede. Se poi per sfortuna incontra, a parte che qualunque coccodrillo, un chiunque sarebbe spacciato, ma vi dico così ancora tecnica, sapete che a me piacciono, diciamo, gli animali, il coccodrillo del Nilo ha una presa di forza delle mascelle che è paragonabile a quelle macchine che triturano, ovviamente quelle presse che triturano le macchine, cioè un alto va dentro, viene pressata e diventa un cubo di metallo, ecco la forza di pressione di quelle ganasce, di quella macchina metallica, è come quella dei coccodrilli quando chiude, no ve la dico così. Quindi, chiudo qua, comunque ripeto, la situazione è sfuggita di mano e non so cosa succederà, dovremo vedere. Dunque, perché non sarai mai mistro Olimpio? Ma te lo spiego subito. Vedete, innanzitutto dovete capire questo, ovviamente la discriminante è che bisogna cominciare a bombarsi, ma questo è solamente un piccolo lato della questione, perché questo lo fanno tutti, cioè tutti nel senso che è molto frequente, che anche nelle palestre vediamo gente bombata, eccetera, eccetera. Intanto sappiate questo, no, questo ve lo devo proprio dire, ve lo dico proprio, questa è la prima grossa informazione tecnica che vi do, che raramente ve la dicono, anche qui i grandi esperti ve la dicono. Nel momento che voi decidete di intraprendere un percorso di steroidi, di anabolizzanti, sul lungo termine, sul lungo termine, non sto parlando del cicletto che uno fa prima di andare in estate, con poche cose leggere, che comunque deve vedere anche quello, ma uno che dice, io voglio fare un percorso di androgini, perché voglio veramente arrivare a livelli fisici molto alti. Ecco, sappiate che voi farete una scelta che diventerà, state facendo una scelta di vita, cioè diventerà permanente la vostra situazione fisica, cioè non potrete più fare a meno degli androgini, nel senso che se un domani staccherete, non potrete mai evitare di assumere comunque androgini, come il testosterone, perché sarete sempre in TRT permanente, cioè nel momento che iniziate un percorso a lungo termine di androgini, il vostro sistema ormonale andrà in TILT permanente, anche le gonadi si consumeranno, si deteriorano, e voi per tutta la vita, mettiamo che cominciate a bombardarvi adesso che avete 20 anni, faccio un esempio, andate avanti a dritto per un po', arriverete a un punto che per tutta la vita vi farete inizioni di testosterone, perché il vostro sistema e le vostre gonadi sono andati, per tutta la vita sarete in questo percorso di androgeni, che poi sia TRT fisiologica o sovrafisiologica, questo è, quindi sappiate che la scelta che farete è proprio una scelta di vita, pensateci bene, e questo è quello che capita a tutti quelli che hanno iniziato queste cose, agonisti, non agonisti, influencer famosi, non influencer famosi, non ha alcuna importanza. Allora, questa è la prima cosa che dovete sapere, ma se uno comincia, dice, vabbè, però io ho questa ambizione, io ho conosciuto qualcuno, qualche ragazzino, mi ricordo uno in particolare, che si allenava, non era neanche malaccio, aveva un bel fisichino, ovviamente sarebbe malissimo, però aveva una buona risposta, e lui, la sua ambizione era diventare mister Olimpia, ma io diventerò mister Olimpia, ho questo sogno, e ho detto, ma guarda che per diventare mister Olimpia, non è che ci arrivi da nato, la devi per forza bombarti come un cammello, ma sì, ma io mi sto preparando, sto accumulando tutta la roba, fra un po' comincerò i cicli, e ragionava proprio così, ma ne ho sentiti anche altri, ora, quando io spesso dico che ragazzi nella vita devono avere un sogno a inseguirlo, io l'ho detto, ma non intendevo questo tipo di sogni, perché questi sono sogni scelerati, perché questo ragazzino non c'è da fare mai, dopodiché poi tra l'altro so che poi mi ha pure smesso, è proprio sparito dalla palestra, per dirvi ecco come vanno queste cose, perché ci sono vari fattori che vi devono portare al mister Olimpia, intanto diciamo questo, anche se vi cominciate a bombare, ci sono dei livelli, cioè da bombarti si può arrivare a un livello discreto, livello medio, livello superiore, e poi c'è il livello di eccellenza, quello è il livello del mister Olimpia, ci sono vari livelli, perché ecco è la genetica che farà la differenza, non è questione della vostra obbligazione, come vi allenate, come mangiate, sciocchezze, quelle sono cose che fanno tutti lo stesso modo, tutti mangiano pollo e riso, tutti si allenano più o meno come vogliono a casaccio, non c'entra proprio niente, il problema è la risposta al farmaco che avrà il vostro organismo in termini di crescita muscolare, perché c'è chi veramente è portato a crescere, quando vedete quei adolescenti o ragazzi molto giovani, o nostrani, o anche, soprattutto in America, se ne sono un sacco di neshes, che sono già enormi, bisogna essere proprio portati a crescere molto col farmaco, ci deve essere una risposta stratosferica, molto veloce, è chiaro che poi ci vorranno anni, però questa grande risposta alla crescita ci deve essere, perché per conto ci sono molti che pur prendendo di tutto e di più, la crescita muscolare è scarsa, cioè non hanno questa propensione all'androgeno che lavora nel muscolo, e non c'entra niente col fatto che uno da natural possa essere messo bene o male, è una cosa del tutto a parte, non si può sapere la risposta che uno ha agli androgeni finché non li prova, può essere scarsa, cioè vi farete tutti gli androgeni del mondo e sarete sempre più o meno mediocri, sì, superiori a natural, ma non sarete mai enormi, oppure può essere incredibile e vedete gente che cresce a dismisura, uno li vede, cacchio, questo così giovane è già enorme, sembra un mistero limpio, figuriamoci dove arriverà, quindi la risposta deve essere quella, e ripeto, comunque poi ci vogliono anni di continua assunzione, perché anche i grandi campioni, come Coleman, Levron, questa gente qua, già da giovani quando assumevano, sono cominciati a crescere velocemente, ma per diventare quello che erano, ci hanno messo comunque anni, cioè devono arrivare proprio a plateau, no? Quindi la risposta al farmaco, secondo, e questo forse è il più importante, paradossalmente, è come voi sopporterete tutti questi anni di cicli, tutti questi anni di assunzioni continue, cioè la resistenza del corpo all'insulto farmacologico, perché se mettiamo che voi avete una grande risposta al farmaco, ma il vostro fisico, a livello organico, a livello metabolico, cardiaco, renale, non lo so, non riesce a sopportare queste cose, è cominciato ad avere dei problemi, dei malanni, è stato male, avanti non ci andate, e ci sono casi di persone che magari avevano iniziato con le cure, non ho ben la risposta, ma la carriera è finita breve, perché l'organismo non ha retto, sono sorti dei problemi, hanno dovuto smettere, quindi anche questa è una dote. Allora, se non avete già questi due doti, a prescindere che assumete gli androgeni anche a tonnellate, non andate da nessuna parte, potete vincere qualche gareta da parrocchia, va bene, ma niente di più, e guardate che qui ci sono alcuni che, è da anni che assumono, tanta roba, ma fisicamente non sono poi chissà che cosa, cioè sono un po' più lontani da, non hanno la genetica per gli steroidi, però nonostante questo, la continuano a assumere per anni, perché comunque poi avviene la dipendenza, la dipendenza mentale che non può più staccare, ommè, quindi questo per dirvi che anche qui abbiamo esempi di gente che non sono affatto portati al doppi, eppure lo fanno stesso da anni, vabbè, giusto per far vedere che sono un po' superiore in atto, ora no, questa è la loro grande ambizione, ma non è finita qua, poniamo che voi avete queste due doti, bene, cavolo, siete fortunati, avete una grande risposta agli androgini, avete una grande resistenza, e state continuando ad andare avanti, apparentemente senza grossi problemi, bene, e quindi come mai non diventate mai il Mestero Olimpico, ma è semplice, perché per arrivare al Mestero Olimpico, dovete fare un percorso agonistico immenso, intanto dovete cominciare a vincere gare, qui puoi entrare nel circuito internazionale, il circuito dei professionisti, c'è tutto un giro veramente enorme, e questa cosa che cosa comporta? Comporta che dovete avere tanti soldini, cioè o c'è uno sponsor che vi segue, vi paga tutto, o dovete essere messi bene di famiglia, avere soldi, perché se no le spese sono immense, non solo per i farmaci che tutti i mesi dovete comprare, sono miliardi di euro, questo me l'hanno detto alcuni professionisti, ma tutti i contoni, i viaggi, le spese in albergo, ragazzi ma non sapete quante spese ci sono? Allora se uno fa un lavoro, fa l'impiegato, fa l'operaio, anche se ha questa grande risposta agli androgendi, è molto resistente, se non hai soldi come fa? Dove va? Avete capito? Ma ammesso anche che, ammesso anche che riuscite a gareggiare, a girare il mondo, entrare nel circuito dei professionisti, comunque sia, per arrivare al Ministro Olimpia, bisogna avere anche un supporto mediatico importante, cioè se siete dei signori nessuno, è difficile, e quando siete lì, in quel circuito lì, lì poi c'è anche l'elite, quando siete entrati nei professionisti, però l'elite dell'Olimpia è un'altra elite ancora superiore, poi c'è l'elite dei primi dieci, dei primi cinque, sono tutte questioni di livelli, e lì contano anche tanti giochetti, diciamo, a livello di sponsorizzazione, politica, cioè, ben visto anche che certe vittorie sono spinte da, io potrei citare un esempio clamoroso, ai tempi, che comunque può valere anche oggi, anche se sono cambiate le dinamiche sociali, le politiche, Arnold è stato uno che è sempre stato spinto, il repupillo di Wilder è sempre stato spinto da lui, era supportato, anche quando ha vinto nella famosa gara dopo cinque anni, che è tornato, che la sua forma non era la migliore, che scoppiava le polemiche, con Menzer, eccetera, eccetera, è perché aveva la spinta, la spinta di Wilder, quindi ha vinto, c'è tutto, dopo ha avuto la carriera di cinematografia, però contano anche questi giochetti qua, e quindi dovete farvi anche un nome in questo senso, e c'è da lavorare in questo senso, allora, e poi non è detto che se siete anche in questa elite, riuscirete mai a vincere, perché ci sono molti che sono arrivati vicino da cima, ma la Ministero dell'Olimpia non l'hanno mai vinto, allora, vedete com'è veramente questa cosa, è veramente difficilissima, molto improbabile, rischiosissima, costosissima, allora io quando sento uno che dice, magari non è che lo dicono tutti, però quando sento qualcuno che dice, io aspiro al Ministero dell'Olimpia e dico, beh, teoricamente è possibile, le possibilità che c'è da fare, a parte che anche la nazionalità conta, perché, ma adesso a parte i tempi di Columbo, che anche lui era nel contesto di Arnold, Wade, insomma, a parte i tempi di Columbo, il Ministero dell'Olimpia e gli italiani, sì, ci sono andati, ma come vittorie, voglio dire, tanto sono sempre o americani, o eccezionalmente, c'è stato qualche cittadinanza extra, statunitense, ma insomma, sì, abbiamo visto l'egiziano, Bigrami, poi c'è stato Chupa, ma sono casi abbastanza rai, in genere sono sempre americani, italiani, è già molto che un italiano possa arrivare fino a lì a provarci, dopodiché, ci si può provare, poi, è finita lì, ecco, abbiamo visto anche, per cui, ragazzi, questa è la situazione, valutate voi, se vale la pena di intraprendere questa grande avventura, magari se uno, uno lo può fare, è legittimo, e se io voglio, cioè è legittimo, è illegale, nel senso che comunque già il fatto che detenete steroidi è già illegale, ma a parte quello, è legittimo, dico dal punto di vista della scelta di una persona, ci vuole provare, bene, ma sappiate che le probabilità che ci arrivate, ma questo vale per qualunque bombarolo italiano, ma chiunque aveva ispirazione di Mr. Olimpia, nel mondo del doping, sono probabilità estremamente, ma estremamente, tipo, non so, 0,000000, questa è la situazione, no, l'ho voluto farvi questo video, perché così avete capito tante cose tecniche, proprio sul discorso del doping, e capite anche come alla fine, alla fine forse non ne vale la pena, cioè si rischia di buttare via, una marea di soldi, forse la salute, forse, non si sa mai, domani vi beccano e vi arrestano, cioè rischiare la famiglia, gli amici, perché poi è una vita impossibile, non si è mai a casa, poi il fisico, è una vita impossibile, durissima, poi per cosa, che tanto là poi non c'è arrivato, uno almeno può dire, vabbè ci ho provato, ok ci hai provato, ma se poi le conseguenze te le porti dietro per tutta la vita, fisiche e anche economiche, non so se ne valsa la pena, quindi riflettete su queste cose, dite la vostra, e io comunque vi aspetto per fare una cosa molto più possibile, un superfisico natura, questo è possibile, senza fare follie, senza rischiare salute, soldi eccessivamente, senza rischiare illegalità, e soprattutto per darvi qualcosa che veramente vi durerà per tutta la vita, questo è una cosa da aspirare e fare, non fa io farò che cosa farai, che cosa vuoi fare, grazie a tutti ragazzi, al top!